Allora abbiamo chiesto di avere una città più curata, più riconoscibile tra le altre e magari come migliorare le zone periferiche. Ci sono state anche altre richieste? Sì, io ho chiesto il collegamento fra i quartieri con autobus, anche treni in periferia e interquartieri per macchine. E tu invece? Io invece molto simile a Gioele, però io ho chiesto anche molto più verdi, anche nei palazzi e non tra virgolette ingombrare la città con palazzi troppo alti. Ed ora sperate che queste richieste finalmente possano essere prese sul serio? Sì, speriamo perché come questo è un incontro quindi come ha detto anche l'assessore Mascarin, questo deve essere una cosa che è fattibile, si può realizzare, non deve essere fatta così solo per far vedere che c'è amministrazione. Sono stati loro oggi i protagonisti del Consiglio Comunale di Fano, i componenti del Consiglio delle Bambine e dei Bambini assieme agli studenti rappresentanti alla consulta dell'Istituto Comprensivo Giovanni Padalino. Hanno relazionato sull'impegno dimostrato durante l'anno scolastico affrontando tematiche per la settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile, per la giornata di risparmio energetico, la convenzione sui diritti dell'infanzia e sulle proposte per una città ideale. Durante l'anno quante volte vi siete riuniti? Un sacco, considerando che ogni lunedì e sempre subito dopo scuola fino alle 4-4 e mezza eravamo là tutti riuniti, assessori e consiglieri a discutere delle problematiche, delle soluzioni, dei consigli, ad aiutare le ACS, le associazioni cooperative scolastiche. I piccoli alunni hanno anche proposto all'amministrazione alcuni progetti per l'arredo urbano e avanzato, la richiesta di essere più presenti attraverso gli organi di stampa, ma non solo. Gli autobus che spesso sono pieni di alunni che rimangono a volte anche a piedi e anche le buche in tutta Fano che sono soprattutto nella via tra il campo d'aviazione e il campo sportivo della Delfino. E in più le piste ciclabili che sono poco frequenti in periferia. Sindaco, le loro richieste verranno prese in considerazione? Ci siamo presi l'impegno di esaminarle, di riportarle con un documento condiviso dall'intero Consiglio Comunale, spiegando quelle che sono realizzabili concretamente nei tempi e quelle che rimangono un intento e che nell'immediato non siamo in grado di realizzare. Perché dobbiamo essere onesti con loro. Quindi detto questo, veramente un grazie a tutti i ragazzi per il lavoro che hanno fatto, attento, concreto e puntuale. Continuate a portare avanti questo impegno civico, ha detto invece il Presidente del Consiglio Comunale Minardi. La politica ha e avrà bisogno di voi. In futuro potreste essere in questa sala per decidere e risolvere i problemi della comunità. Siccome ho visto che ci sono dei ragazzi e delle ragazze molto bravi, l'appello che ho fatto loro è continuare a questo impegno civico perché sarete la classe dirigente del domani e avrete la possibilità di sedere in questi banchi del Consiglio Comunale e da pieno titolo fare le scelte per la città.